Siamo con Giovanni Messina, presidente del Centro Sportivo Italiano di Agrigento, che ancora una volta occuore lo sport giovanile ad Agrigento e non solo. Domani infatti si parte per una grande iniziativa promossa e sponsorizzata dalla Gazzetta dello Sport e che riguarda il calcio a sette. Di cosa si tratta? Si tratta di una manifestazione, un torneo nazionale, come benissimo hai detto, sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport dove noi abbiamo fatto la fase locale, che con 24 squadre, poi loro hanno fatto la fase regionale, dirà più specificatamente il direttore tecnico. Intanto volevo fare un ringraziamento a tutti i nostri atleti perché andando a Coverciano portano il Centro Sportivo Italiano di Agrigento, portano un valore, impegno, questo è importante. Un appello che vorrei fare il giorno 27, lunedì, ci sarà una riunione di tutte le società sportive, al CONI, alle ore 19. Quindi gli oratori di tutte le società sportive sono pregate di venire a guardare alla presentazione e possibilmente partecipare a queste iniziative. La società Spina Santa partecipa appunto a questo torneo giunto alle fasi nazionali con una squadra tutta grigentina di calcio a sette. Allora domani si parte per questa avventura? Sì, ormai siamo arrivati alla fase conclusiva. Abbiamo giocato ad Agrigento la fase locale, poi a Pedara e provincia di Catania la fase regionale con 16 squadre, quindi non è stato certamente semplice. Adesso partiamo per Coverciano nel Centro Tecnico Federale sperando di riuscire a ottenere un buon risultato. Devo dire grazie a tutti i ragazzi, anche alle società che ci hanno dato i giocatori, per esempio il Porto Empedocle, la Santa Sofia di Licata, l'Atena del mister Giovanni Sorce. Quindi sicuramente tutto lo sport agrigentino magari tiferà per noi per cercare di ottenere un buon risultato in questa manifestazione. Come nasce questo tipo di iniziativa e da quanto tempo ve ne occupate? Dunque la Gazzetta dello Sport promuove questo torneo dall'anno scorso, soltanto che erano previste solo quattro città del nord, mentre quest'anno, visto il grande successo dell'anno precedente, è stato esteso ad altre città, quindi anche il sud finalmente è inserito in questa manifestazione. Quindi diciamo che da gennaio si lavora per cercare di creare una squadra competitiva per provare a realizzare questo sogno. C'è anche con noi il capitano di questa squadra della società che partecipa domani, è emozionato per questa partenza? Sì, siamo emozionatissimi, andiamo a fare un'esperienza bellissima, ce la metteremo tutta e speriamo di vincere. Insomma, ha guerrito. E questo invece è il difensore? Sì, sono Caloggio Rondana e oltre che divertiti ci speriamo anche di vincere, portare un successo qua a Grigendo. Grazie!